Una giornata interamente dedicata al progetto Medeas Room contro la violenza sulle donne, quella organizzata dall'Associazione Deposito dei Segni al Teatro Comunale di Teramo. Le attività del mattino hanno coinvolto gli studenti delle scuole superiori, mentre quelle del pomeriggio e della sera la cittadinanza. Un programma ricco con proiezioni, scene teatrali e presentazione del libro della storica napoletana Laura Schettini. Da questo palco cosa raccontate ai ragazzi? Ma soprattutto li introduciamo all'interno di una problematica così drammatica e attuale che è la violenza contro la donna e la discriminazione. Siamo partiti dalla rivisitazione del mito di Medea da parte della scrittrice Christa Wolf che più di vent'anni fa, dopo una lunghissima ricerca, rintraccia una figura che è assolutamente diversa da quella che ci ha tramandato il mito di Euripide, soprattutto di una donna che è esulente in terra straniera, mantiene assolutamente salda e forte la propria identità. Quindi siamo partiti da questa destrutturazione del mito perché pensiamo che questo sia un momento importante in cui si possano destrutturare le abitudini e gli stereotipi che noi abbiamo della relazione maschio-femmina perché possiamo invece in termini proprio di cultura proporre una equanimità di genere. Infatti il discorso importante che noi tentiamo di portare è quello di superare le paure, superare gli stereotipi per porsi in ascolto di quella che è la problematica tra i sessi. E per il contrasto a tutte le forme di violenza sulle donne, in provincia di Teramo opera il centro antiviolenza La Fenice che sostiene le vittime che denunciano abusi e le conduce lungo un percorso di rinascita. Quali sono i dati del 2017 del centro antiviolenza La Fenice di Teramo? Le donne che sono state prese in carico nel 2017 sono in totale 71. I dati mostrano come la violenza sia un fenomeno trasversale perché colpisce tutte le età. abbiamo donne che vanno dai 18 fino ai 60 anni. Le donne prese in carico per la maggior parte sono italiane, su 70 donne 50 sono italiane. Quando voi dite prendere in carico in che senso? Prendere in carico significa che per ogni donna noi realizziamo un progetto per il suo percorso di uscita dalla violenza ed è un percorso che è personalizzato in base alla situazione e all'esperienza che la donna ha vissuto. Nel 2017 23 donne hanno denunciato e questo è importante perché è una grande difficoltà proprio per le donne che subiscono questa esperienza e quello di denunciare perché hanno paura e non riescono a fare questo passo che è molto importante nel loro percorso. Grazie.